Questa è la bambola di Squid Game E' solo io Oggi non saremo delle guardie Non saremo dei giocatori Oggi saremo la bambola di Squid Game Se non volete essere eliminati dopo l'1,2 e 3 stella Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se c'è un sacco di pollice in su Sarò peggio di Annabelle Manca pochissimo Ci vediamo a Palermo ragazzi Vi aspetto Benvenuti su Squid Game Ma che sono queste movenze? Mi sono evoluto Adesso ho un'animazione per camminare Sì Siamo su Squid Game Un altro gioco ancora sempre più bello Con piazza di sangue a terra Ok forse non è bello Ciao ragazzi Ciao a tutti OMG Lorenzo OMG vinci No vinci Devo vincere io Non mi interessa Io vincerò in Squid Game Io sarò la bambola Non tu Quindi vediamo un attimo Che cosa ci abbiamo qua Ah Le forme del caramello Ovvero lo shop Abbiamo il 2% di probabilità di vincere in più Se paghiamo 100 robux Non pensavo che Squid Game Bisognasse pagare per vincere i soldi Spendi 100 ne ricevi 45 milioni E poi possiamo comprare pure una vita in più Sì ma non vale Cioè dai Ma questo non è Squid Game Questo è Money Game Va bene Ho capito Ho capito Invece poi Possiamo essere Una Bambola Ma prima di diventare una bombola Non aspetto Non aspetto Scusate Non volevo Ma prima di diventare una bambola Noi dobbiamo vincere Questi 45,6 miliardi di won Eccoci qua Ci siamo tutti 28 secondi E io non sono nel tabellone Aspetta 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 Non sono nel tabellone Mi devo mettere qua Il prossimo Squid Game sarà One e go Non voglio partecipare Messaggio di sistema Eh Ma come è? In che senso è? Ma che messaggio di sistema è? Aprite Oh Finalmente ci siamo Vincevo questi Squid Game Ci sono Wow Mi devo pure fare la foto Non ci credo Ok Mi faccio la foto Fai un bel No Guarda come si è venuto un bello Pingu Proseguiamo Proseguiamo Io la foto Me la sono fatta Entriamo Eccoci qua Ma dai Ma dobbiamo iniziare Proprio dal secondo Ma che senso ha? Io faccio Lo scivolo Non era questa la mia idea Ma tu non ce l'hai la maschera? Sono pronto Ok Dovevo cliccare qua Dovevo cliccare al centro Dove cliccare il verde Dovevo cliccare il rosso Se cliccare il rosso Sbaglio Oh 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 Sento un sacco di spari Aiuto Aiuto Ok L'ho finito l'ultimo Si Ho vinto il gioco Mi dispiace per voi Vediamo cosa sta succedendo No Questo ci ha perso veramente la testa Oh ma quanti ne li vinono per questo gioco? Quanti ne mancano? Tre eh? Uno, due, tre No Ha vinto ragazzi ha vinto Guardate io sono qui No aspetta non sono io questo Mi scusi dove sono? Io sono qui Prossimo gioco Red light green light Per ora facciamolo normalmente Ma poi avrò la mia vendetta E sarò io la bambola Non so quanto tempo ci vuole Ma io ci sono Aiuto Sto soffocando Aria Eccoci È il momento Di green light Red light Mi devo fare una foto? Senti io Io so bello Mi spiace Ok entro Una cosa pazzesca Questo è diverso Perché gli altri giocatori Possono anche essere la bambola Quindi la bambola non è la bambola È un giocatore Ma che ci falla un panda? Ma quello un panda ma che ci falla? Ragazzi vedete quella là? Quella là Non è solo una bambola inanimata È uno di noi E chissà chi è Ma la prossima sarò io Dobbiamo essere pronti E abbiamo pure la stamina Ok? Mi raccomando Devo solo correre Non mi saltate di sopra Oh Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Green light Green light Oh Oh mamma mia Nick Quanti sono stati eliminati? Aiuto Stai fermo Pingu Vai corri Pingu Ma c'è un tizio con un piatto di pasta in testa E c'è un errore qua No ti preoccupare Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ci manca poco Per arrivare all'altra parte Vai 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 Neanche l'abbiamo fatta Neanche l'abbiamo fatta Attenti Red light Oh Picinissimo Che arriverà primo tra me Il piatto di pasta Il piatto di pasta Mi sa Tre Green light Vai Vinco io Sì E vai Oh ne sono rimasti solo tre ragazze Questa bambola è un assassino Perfetto Abbiamo vinto Ok Ci siamo Io voglio fare l'ultima La challenge La challenge Del ponte di vetro Eccoci qua Il quinto gioco Io non voglio essere il primo Allora Io voglio essere l'ultimo Ad andarci Ok Non casuale Ultimo Va bene Sto già sudando Non sono No non sono il primo No Non ci voglio andare Ok Oh qual'è Qual'è quello giusto Qual'è quello che si Non lo sapevo Ok Uno E due Io direi Che uno di voi Deva andare Ti spingo Non riesco a spingerlo Ok Ok mi ho capito È questo Ok ok Allora Chi è il prossimo Nessuno vuole andare Allora Andate voi Vi scheramento io Dall'altra parte Scheramento io Ho perso un'opportunità Non ci guardiamo In faccia così Va bene No Ok è quello È quello È quello Sì Oh mamma mia Non lo so Non lo so Non lo so Sono rimasto solo Non ho più persone Da utilizzare Allora secondo me Questa avanti Mi fa cadere Ok no Questo non è No Ahia Che cosa Ci siamo È il momento Noi dobbiamo Essere La bambola Quindi Diventiamo la bambola Mi sento potente Mi sento Nuttissimo Sono Inutilabile Eh Sono pronto Io diventerò La bambola Al prossimo gioco Eh Diventerò La bambola Vuoi essere La bambola Sì Sono qui Ora Sono la Nuova Bambola E Devo decidere Red light O green light Dai Aspettate Venite qua Eh Sono io La bambola Ora Qua Adesso vediamo Come Finirete Eccoli Belli che siete Pronti Ci sono 28 secondi Iniziamo Grandissimi Che il gioco Abbia inizio Green light Green light Red light Red light Passate Dai Forza Andate Red light No ragazzi Troppo bravo Adesso le faccio Impazzire Oh No no Si è mosso Si è mosso L'ho visto Si è mosso Si è mosso Dai Impossibile Si dai Dai Non può avvicinarsi Non può avvicinarsi No L'ha superato Mannaggia L'ha superato No Attenzione Eh Attenso Green light Subito Red light Oh Uno è andato Giù Giù Rimane solo quello Non so se farlo vincere O fare scadere il tempo Facciamo Green light Red light No Dente dai Lo faccio vincere Lo faccio vincere No dai Ho killato tutti Tranne due Mamma mia Ok ragazzi Direi che questo video Su come essere Bambola Su squid game Lo posso anche Con cui è qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto E nulla Iscrivetevi al canale Se lo avete ancora fatto C'è un sacco di Pollice di su Qual posto Pingue Lo resiste Tutto E noi ci rivediamo A un prossimo Video A un prossimo Sous-titrage Société Radio-Canada